L'inseminatore è morto, hanno lasciato un figlio, un ragazzino di 13 anni da solo e la persona designata come tutore sono io. Lui e Stefano, detto anche Balù, superfluo a spiegare il perché, per professione precario osservatore di arcobaleni e soprattutto lucidatore dello specchio di Viganella. E' il coprotagonista con il piccolo Giovanni di C'è tempo il nuovo film di Walter Veltroni. Il fascino dello specchio della Valle Antrona, dopo 13 anni e dopo aver ammagliato anche Topolino, resta dunque vivo più che mai ed ha solleticato la fantasia del regista politico che era a caccia di uno spunto originale. Come dire, a Viganella ha trovato pane per i suoi denti. Veltroni, peraltro, in questi giorni sta promuovendo la sua pellicola parlando diffusamente anche del piccolo borgo solano. E' stato addirittura inventato un mestiere, dice uno dei padri dello specchio, l'ex sindaco di Viganella, Pierfranco Midali. Le riprese non sono state fatte in valle, ma sull'Appennino Romagnolo, dove è stata girata la pellicola. Midali spiega di essere stato contattato un anno e mezzo fa. L'intenzione della produzione era di girare a Viganella. Era stata chiesta anche la disponibilità di locali per il deposito delle attrezzature per la troupe, disponibilità che era stata data per un problema di budget, però la trasferta è stata annullata. Ancora oggi sono meravigliato dell'impatto mediatico che lo specchio continua ad avere, aggiunge Midali, ricordando altre pellicole sul tema. Il docufilm di David Christensen è un lavoro dei fratelli Tozzi e aggiungendo che quella di Veltroni, con ogni probabilità, non sarà l'ultima. Anna Di Francisca, regista della bruttina stagionata, sta lavorando a un progetto in questo senso. Sono curioso, conclude l'ex sindaco, di vedere come nel film di Veltroni saranno rappresentati lo specchio e il paese. E un po' curiosi, ammettiamolo, lo siamo anche noi. Nulla trapela dal trailer, se non l'incontro e il viaggio insieme di due improvvisati fratelli, che più diversi di così non potrebbero essere, e non solo per età. Tanto è precisino e puntiglioso il piccolo, quanto è buffo il sognatore, l'osservatore di Arcobaleni, che però ci piace, senza i sognatori, senza chi ama a mettere le ali alla fantasia, lo specchio di Viganella non esisterebbe.